Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Io sono Maffi e oggi andremo a fare una ricetta semplice con le verdure, con le melenzane in particolare, sia per quelli che possono mangiare lattosio e quindi mozzarella eccetera che quelli che non possono mangiarlo. Quindi per tutti quelli che non possono mangiare lattosio per intoleranza o per varie diete alimentari possono sostituire il formaggio grattugiato con delle noci di macadamia grattugiate o se preferite anche delle mandorle o delle noci e che danno molto gusto. Per questa ricetta abbiamo bisogno di ingredienti semplici come pomodoro fresco, basilico fresco, parmigiano grattugiato o noci di macadamia e poi abbiamo bisogno di olio extravergine d'oliva, sale, pepe e mozzarella. E ovviamente delle nostre melenzane che sono importanti per la ricetta perché andremo a fare degli involtini con la pasta, quindi anche pasta integrale se non potete mangiare la pasta normale di grano. E invece poi le melenzane come faccio io potete mangiarle grigliate oppure fritte. Adesso vi lascio alla video ricetta tutorial e ricordate se avete suggerimenti o avete qualche ricetta da proporre e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.